Ciao a tutti, folettini e folettine, bentornati in questo nuovissimo video spacchiettamento. Mi è arrivato un altro regalo dalla mia lista Amazon, come potete vedere dal sorrisino di Amazon. Adesso vedremo un po' cosa c'è dentro. Io ho soltanto tolto la carta qui per far prima, ma non ho ancora sbricciato. Oh mio Dio! Qui c'è anche il bigliettino. Oh mio Dio! Grazie tesoro! Goditi il regalo da Miriam. Ciao folettina, mi chiamo Miriam, spero che questo regalo ti piaccia. Un abbraccio. Ma certo tesoro, grazie mille! Adesso lo andiamo ad aprire, folettino e folettino, mamma mia! Scrivimi in privato che voglio assolutamente ringraziarti Miriam. Aspettate che qui è un casino per aprire anche se ho le unghie. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Rosa! Grazie mille! Quello che avevo messo nella lista Amazon, guardate! È fatto così! Così! aspettate che ve lo zoomo. Ha due fotocamere, folettine e folettine. Ed è abbastanza grande. Adesso vi leggo le caratteristiche. Dove stanno scritte? Ah qui. Allora, dual real camera, 5MP front camera, 16GB più 2GB, RAM e ROM, 3GB e 2GB di connessione, credo. 5.5.5 full view, 3000 ma, che non so cos'è, scusate, forse la batteria, credo. Fingerprint e Android 7.0. Ve lo mostro, guardate! E' bellissimo! Che dire tesoro, grazie mille! Vediamo qui dentro cosa c'è. I cavetti e tutto, vediamo un po'. Allora, abbiamo la custodia, una batteria, la custodia classica bianca, vedete? La batteria, la batteria, poi abbiamo... ah, questo è quello come ce lo avevo io, con la chiavetta. Si apre con la chiavetta, per inserire le card. Qui c'è la spina e il cavetto, per caricarlo e per collegarlo al PC. Ecco qui. Che dire, Miriam? Io ti ringrazio tantissimo. Ti mando un grosso bacione. Che dire, Follettini, Follettine? Sono contentissima, felicissima di questo regalo, perché il mio telefono era morto, sepolto. Grazie, Miriam. Ti mando un grosso bacione. Non dovevi disturbarti così tanto. L'avevo messo così nella lista Amazon, ma non speravo mai nella vita che qualcuno me lo avrebbe preso. Quindi ti ringrazio enormemente. Scrivimi su Messenger, così posso ringraziarti. Che dire, se questo video vi è piaciuto, mettete un gran mi piace, spolliciate in tanti. Iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video su tutti i vostri social, con tutti i vostri amici e amiche. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook Follettina Creation. Io vi mando un grosso bacione. Iscrivetevi tramite mail, anche solo per un saluto. Se vi va, mariegrazia.catalano.it Vi lascio come sempre giù in un'info box. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!